Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo insieme l'albero di Natale e addobberemo un po' casa. E' una cosa a cui tengo molto, mi piace moltissimo creare un'atmosfera natalizia all'interno di casa. E a voi piace addobbare casa per il Natale? Fate dei decori minimal oppure addobate casa ovunque? Raccontatemi nei commenti, sono curiosa! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Questo pupazzo di Natale e l'alberello sono regali fatti a mano dalle minipotine, belli vero? Grazie a tutti Grazie a tutti Se vi interessa ho un codice sconto per voi, vi lascio tutto in descrizione Il mio è super addobbato di ricordi ed emozioni ed il Natale è anche questo Spero di avervi fatto compagnia con questo piccolo video Vi auguro una dolce casa a tutti Grazie a tutti